Ci troviamo in Australia e più precisamente in una regione remota in prossimità del Great Sandy Desert a 1800 km da Perth, capitale dell'Australia occidentale. Proprio in quella zona sorge l'impianto diamantifero dell'Argill. Si estraggono per lo più diamanti bruni di scarso pregio, ma anche pregiatissimi diamanti rosa. Ma lasciamoli un attimo da parte. Anni 80. Lindsay Rodan, ex maestro alimentare di Perth, aveva avuto fortuna come allevatore di cavalli e agente immobiliare. Nell'89 però era sull'oro del fallimento e fu proprio allora che incontra in treccia una tresca Collinette Crimmins, 38enne, sposata a Barry Crimmins, capo dei servizi di sorveglianza dell'Argill. In un modo o in un altro due amanti si conquistarono la complicità di Barry. Rodan gli disse che doveva solo impadronirsi dei diamanti rosa. A piazzarli senza lasciare traccia ci avrebbe pensato lui. Il momento propizzo alla follia, come disse in seguito Barry, gli si presentò quando quattro contenitori da litro di gemme rosa grezze gli si posarono sulla scrivania. È consuetudine nelle miniere lavare le gemme in soluzione acide per togliere quelle scorie che ne deturpano la lucentezza. In quel caso era avvenuto che gli smistatori dell'Argill a Perth avessero rimandato indietro le gemme per un ulteriore lavaggio. Quindi quattro contenitori di gemme rosa grezze avevano viaggiato dall'Argill a Perth e nuovamente da Perth all'Argill. A questo punto i corrieri dovevano prelevarle per portarle nella vicina città di Cununurra per l'ulteriore lavaggio. E fu proprio allora che i corrieri dimenticarono uno dei contenitori. Quando Barry si accorse dell'errore andò a controllare il bollettino di viaggio. Ma il bollettino di viaggio non menzionava affatto il quarto contenitore. L'occasione. Barry lo rubò e la fece franca. Il crimine che paga si perpetua. I furti continuarono. Rodan si occupava delle gemme. Alcune venivano spedite grezze in Europa. Altre venivano lavorate a Perth e contrabbandate grazie alla complicità di alcune hostess che le nascondevano all'interno di barattoli di crema. I crimines venivano pagati regolarmente da Rodan con cifre che arrivavano ai 10.000 dollari. Quando le gemme fecero la loro comparsa in Europa, i funzionari dell'Argill si convinsero che la miniera veniva depredata. Conoscevano il loro prodotto. Erano sicuri che quelle gemme provenivano dalla loro miniera. Si aprì l'indagine che dopo breve si concluse con un niente di fatto. Un alto funzionario della polizia disse che non c'erano prove che quelle gemme provenivano dall'Australia. L'Argill non demorse e fece riaprire il caso una seconda volta che si concluse nuovamente con un niente di fatto. Allora l'Argill ingaggiò degli investigatori privati e riuscì a far riaprire il caso una terza volta pagando le spese di polizia. Al termine di lunghe indagini, Lynette Crimmins scrollò e raccontò di una storia d'amore degenerata in odio e che Roldan l'ha costrinse a prostituirsi una volta che i proventi delle gemme rubate cominciarono a scarseggiare. Anche Barry si dichiarò colpevole e disse di essere stato indotto al crimine dall'avidità dell'ex moglie. Al processo il difensore di Roldan sostenne che le parole di Lynette altro non erano che le fandoni di una donna setata di vendetta per essere stata scaricata dall'amante. Nel febbraio del 1994 la corte d'assisi di Perth diede 4 anni a Barry, 3 anni a Lynette e 3 anni a Roldan. Si stima che furono rubate gemme per un controvalore di 30 milioni di dollari.